Poi aveva la seconda wave, gli adcari la shottavano e quindi avevi questi di nuovo altri 6 minion full vita che andavano ad attaccare la torre e distruggevi la torre alla seconda wave e poi tiravi dritto. E l'Ouelo funzionava perché, come la counter e sta tecnica, mandi quelli che hanno più waveclear in mid lane e cerchi di fare waveclear, capito? Questa dovrebbe essere la logica. Soltanto che all'Ouelo ovviamente è comunque hard e comunque all'Ouelo sta cosa qua e soprattutto si faccia in normal queste cose perché ovviamente dovevi già giocare in 5, manco c'erano le flex ai tempi, c'era la pentacute, ti ricordi? Che era fatta apposta di giocare in 5, ma lì la facevano pochi cazzo da giocare alla pentacute, quindi si faccia in normal. Era... Vieni qui, vieni qui. Aspetta che qua... Vieni qua, vieni qua. Arrivano, tanto mi sono tirato... Ho già preso un po' dei soldi. Lilia va là e... Muore però, si è dimenticata già. Oh? Che ha fatto? C'è blitz con... Eccolo! Non abbiamo summoners. Sti cazzi. Oh shit. Per tutto farla su... Su delay. Vabbè. Ma è bad. Dovevo essere più aggressivo actually. Stoppalo tu se riesci. Ok. Vedo se riesco a stopparlo ancora di più. Ecco, stoppato. Non funziona blitzkran contro di noi, mi sa. Penso anche. Vamos. Vega era un bel campione, certo brother. Era un campione Vega. Ma perché è venuto a difendere. Ma mi sa che l'add carry è sparito. Ah no, eccolo. È perché blitzkran che è morto, quindi lui deve sostituire il support. Che toxic sta bottoli. Ma si chiama Tower 22. Questo è italiano, sicuro. Secondo me. Per forza. C'hanno dead di... Sì, 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 l'hanno detto prima. L'hanno detto in chat. Ah, dead di conte, sì. Il mana con Katie devo stare attento. Finisce. Vai, Torre, Torre. Avremo due haters in più da oggi. Due haters che si aggiungeranno alla lista. Ok, ti aiuto a pushare solo quegli autoattacchi, però. Vai. Io non ho ancora W, eh, quindi... Che fa? Pazzo. Ok. What is it doing? È tu il Demolish? No, era mio, ok. Era il tuo. Non lo capiamo più ormai. Io mi sa che vado letale, ti vado tipo... Mi sarete dietro. Vai, c'è la W. Eh, sì, ci sta. Il crit non ne vale la pena qua. Vai, questo è il tuo. Riesci? Proviamo l'ultima, dai. Vai. Io muoio, ma è ok. Ok. Allora, non so se si vado berserker, però vado in boots, mi sa. Ma è meglio Tractar. Mamma mia, che mossa che ho fatto. Ho tirato su un punto sull'acqueresco per fare l'execute adesso. Ce l'ho tra poco. Aspetta, voglio i gold, arrivo. Ok. Ok. Ho fatto il veloce calcolo mentale. Cinque minuti, perfetti. Ah, shit. Non ho fatto abbastanza danno. Perché non ho maxato la Q. Ma dov'è che c'ho 2500 gold? Vai, tipa, dopo ti aspetto. Soltamela faccio la goccia. Tanto. Ho di soldi. Eccomi. Sta succedendoli. Addios. Un po' lontano fra... Oh! No! Ecco. Ho scoperto che le persone possono uccidere me. No, è vero. Quase lo abbiamo sempre. Quase lo abbiamo sempre a questo punto. Fuck. E' sempre forse colpa mia. Ma è vero. Va bene, va bene. Volevo uccidere il Nocturne, ma... La Tristana mi ha fatto malissimo. Non me lo aspettavo. Il fatto è che, prendendo la torre così presto, mi scordo che noi non siamo così a head. Siamo same level, same thing. Sì. Se metta, non vogliamo. Eh, sì. Però sai, prendi la torre a 5 minuti, sembra uno stomp completo. In caso all'inbot puoi giocare così, comunque. Eh sì. Tipo... Puoi bussare così da... Tra l'early in top. Non sta avvicinando la torre a prima dei 10 minuti. Animo ce la duro. Sto arrivando, vai. Sto visti in tantissimi video. Poco, poco. Dovrei studiare per un esame, ma preferisco guardare questo gameplay fantastico. Guarda che danni. C'ho la ultima. Uff, presa. Vai, shottiamo la torre. Tempo io uno. Ok. Non ho preso l'aggro. This one is out. GG. Porca torre, è velocissimo sto gameplay. La speedrun di LOL. E' veramente speedrun, eh? E' speedrun, è speedrun. Io metto queste trappole, adesso non posso andare verso il lato sinistro. Eh, qua io si muoio, ma forse... Ok. Va bene. Ci sta a resettare. Dovevamo per forza. Eh, sì. Comunque non vado sulle tiles, ti vado solo questo e poi vado Kraken, tipo. Vai, ho preso un po' di roba. Bro, speedrun non è easy, eh? Eh, no. Perché comunque è League of Legends, cioè. A un certo punto. Noctur con la ulti, poi. Fuck. Però, Sandrini, non lo so. Forse prova col ticket a sentire da Riot. Arrivata a 10 minuti così molte tizze su YouTube. Fieri che hanno capito tutto. Cazzo, cazzo, è vero. Sotto i 10 minuti non fare le feb. Beh, è capitata, tipo, una partita a 6 minuti, ma perché sorrenta? Perché c'è una app. Andiamo, andiamo. Comunque siamo arrivati a 8 minuti, la loro... Cioè, potremmo prendere tutti i 5 i blading. Potremmo fare anche la genesis e prendere tutte le torri outer, eccetera. Sono tutti qua, comunque. Sono proprio tutti, tutti qua. Questo ha fatto male. Mi fa sto scemo. Vabbè. Ok. Ma prendiamo Inibitor, eh. Ma c'è Vayne mid, ma c'hanno solo degli AD carry questi. Vayne è dietro di noi. Ah, quanto dietro? È molto dietro. Oh, oh. Devo andare via che c'è... Vieni da me, vieni da me, vieni da me. Vabbè, flash. Vieni da me, vieni da me. Stai, 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 stai. Sei il bait qua. Sì, 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 sì. Guarda quanto sono contento di essere il bait. Puffete, guarda le pizze che prende. Ma blitz? Non ci ha pensato un attimo di tankargliela. L'imposto era Mongas, davvero. Vieni che fa la caprella sul buono. Scappata. Qua forse è meglio andare bene. No, rimaniamo, rimaniamo. C'ho il TP in un minuto, dai. Beta, beta, ti metto la trappola sotto i piedi. Oh. Vabbè. Era, era too much. Non è finita, non è finita bene. Era un po' too much, era un po' too much. Un po' too much, forse sì, sì, sì. Ok, vado di rapid fire per quanto mi disprezzi questo item. Eh, sì. Ah, proprio rapid fire subito? Tipo i bot. Eh, sì. Non è meglio, scusami, non è meglio se ti chiudi, come cazzo si chiama? Chiudi l'eclipse. L'eclipse è forza, non è adesso. Non lo so, forse è per il Max Ranch. Se fai tipo i cusciotti, è perché procca anche... Abbiamo sei minuti per finire la challenge. Tipa, tipa, non è il TP. Eh, venti secondi. L'userò per dopo, tanto morrò un'altra volta sicuramente. Quanto si è salvato? Che bot lane è? La bot lane è la speedrun questa. Oh bene, sono mid, sono tutti mid. Vai, vai, vai. Abbiamo sempre il blocco di dieci minuti. Dieci minuti diventa quasi impossibile. Eh, ma perché arrivano tutti? Sai, comunque non è che ci può far più di tanto. Allora l'interno non riescono a fare niente. Tutte le difese che prende la torre, guarda, non fanno danno. Ah, sì, sì, questa, guarda. Oh, vai. Ok, keep going, keep going. Hanno smesso i defender. Vai, 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 finiamo, 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 finiamo. Vieni, vieni, vieni. Nah, fuck. I nostri teammates non sono riusciti nemmeno a stopparli dalla base. Sono proprio degli NPC, oh. Non realizzano. Sono proprio NPC, bro. Guarda lì con l'herald. Stanno lobotomizzati lì. Hanno pushato, hanno pushato. Potevano farci finire il game, letteralmente. Se sto parlando di diga. Eh, vabbè, adesso. Effettivamente sì, c'ho l'award, ma tanto anche... Cioè, tippare da solo non ce la faccio. No, no, no. Servirebbe nulla. Io c'ho il TP, posso tippare bot. Abbiamo quattro minuti, quattro minuti, quattro minuti. Siamo ancora... abbiamo battuto il record. Posso tippare bot, perché non va? Ah, aspetta, ecco perché siamo a 13 minuti. Eh, non si può tippare. O comunque da domani si potrà... Si sblocca a 10 minuti il TP, eh. Domani facciamo la speedrun. Domani speedrun. Nocturne poi rompe il cazzo. Domani magari no, ma venerdì, se vuoi, venerdì possiamo riprovare. Vai, tiriamo dritto bot. Ma verranno tutti tutti, eh. Vabbè. Noi possiamo tirare dritto sul Nexus, secondo me. Aspetta che tra un po'... Non spaventare i Tristan, aspetta la mia ulti. Vai, dimmi quando la ulti e la ulti anch'io. Vado. Vado, 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 vado. Via, via, via. A 14, a 14. Vai, solo Nexus, solo Nexus. Vai, vai, vai. Ok, 14. 14 e 0... 14. Bot di. Bot di. Nuovo record. Adesso mi apriamo Toplin. Proviamo il Trandol Belvet. 14 e 0 3. Trandol Belvet o Yorick Trandol? Promosso in bronzo, GG. Finalmente sono uscito all'Iron, non ce la faccio più. Io in Iron 1. Sono quasi lì. Che vergogna. Io ho fatto una cosa terribile. Cos'hai fatto?